Benvenuto a Daniele Testa, candidato sindaco al Comune di Pratella per la lista civica Pratella Unita. Parleremo con lui nel corso dell'incontro dei programmi elettorali e del futuro del piccolo comune. Il motivo della sua candidatura? La motivazione della mia candidatura è stata questa, sono stato mosso insieme alla mia compagine oltre che da un senso di appartenenza, dalla volontà di dare un'alternativa alla nostra comunità. Erano ormai 40 anni o più di 40 anni che i giochi politici all'interno del nostro comune erano sempre gli stessi e quindi sempre le stesse figure si candidavano a gestire la nostra comunità e questa è la motivazione. Leggo testualmente dal suo programma, efficientare e migliorare l'organizzazione degli uffici del nostro ente al fine di rispondere con attenzione alle esigenze dei cittadini. Come farà senza personale, visto che un po' tutti i comuni soffrono di questa patologia, chiamiamola così? Io penso che prima di tutto vadano formati e efficientati, utilizziamo questo termine, le risorse che si hanno all'interno perché il comune non è privo totalmente di risorse ma quindi vanno valorizzate e soprattutto formate. Secondo noi vorremmo puntare in maniera molto forte sulla deburocratizzazione e la tecnologia può aiutare grazie anche alle nuove generazioni che hanno una maggior dimistichezza con le app e quindi che possono aiutare sicuramente a velocizzare l'aspetto delle pratiche. Censimento del patrimonio di inizio, qual è la finalità e che cosa prevede questo progetto? La finalità è questa, tendenzialmente in genere si tende ad operare o a strutturare delle opere senza avere bene in mente quella che potrebbe essere la visione di un paese, quindi dobbiamo partire da quello che abbiamo, da quello che è valorizzato e operare poi in funzione di questo. Da chi è costituita la sua lista prevalentemente? La nostra lista è nata in maniera molto ampia, abbiamo cercato di mettere insieme delle competenze trasversali in grado di intercettare le esigenze di tutta la cittadinanza, abbiamo persone laureate come persone non laureate ma uno degli elementi principali che ha caratterizzato la scelta, in realtà poi ci siamo scelti gli uni con gli altri, è stato l'aspetto sociale, quindi ognuno dei membri, dei candidati della nostra lista ha dato qualcosa alla comunità in maniera diversa. Il suo primo provvedimento qualora venisse letto? Io penso che fare propaganda sia semplice, il primo provvedimento in realtà sarà a funzione di quello che troveremo, quindi c'è bisogno di fare un'analisi accurata e interna dello stato nel quale troveremo il nostro comune ma soprattutto dovremo analizzare i bilanci, quindi dovremo andare a capire quello che può essere una sorta di autosostenibilità della nostra comunità e quello che possiamo fare. Sicuramente il primo provvedimento sarà quello di migliorare i servizi essenziali della nostra comunità e uno dei progetti che ci sta più a cuore è sicuramente il concetto delle acque, quindi le acque che caratterizzano in maniera molto forte il nostro territorio e il nostro paese intorno alle quali vorremmo poi creare dei progetti che attraggano anche la parte turistica. Io avevo una domanda che per metà è stata bruciata, quali i vostri progetti? Almeno due, uno sicuramente dell'acqua come appena detto, l'altro? L'altro progetto? Sicuramente un progetto molto importante e legato, questo lo definiamo perché la nostra visione è operare secondo un'ottica di breve periodo e nel breve periodo migliorare i servizi essenziali dei cittadini, ma di medio e lungo periodo, quindi dove ci vorrà più tempo per portare avanti questo processo, ma bisognerà iniziare un processo e combattere lo spopolamento, cercando anche di riutilizzare le abitazioni che oggi sono vuote all'interno del paese, riquatificandole e rendendole disponibili a chi vorrà prendere la residenza all'interno del nostro paese. Per quanto riguarda la sicurezza, Fratella ovviamente non è esente come tanti comuni dell'Alto Casertano, da furti oppure piccola criminalità. Cosa pensa di fare? Per quanto riguarda la sicurezza, noi abbiamo due problemi, io credo che il problema maggiore sia la sicurezza stradale. A Fratella abbiamo una strada sulla quale purtroppo si sono verificati degli incidenti non belli, quindi prima di tutto è cercare di mettere in sicurezza quella strada, cercando di ridurre la velocità dei mezzi che passano su quella strada e quindi per salvaguardare le vite dei cittadini e delle persone che vivono nel luogo. È una cosa. Per quanto riguarda invece la sicurezza del comune è creare dei sistemi di videosorveglianza alle uscite del paese, quindi a tutte le vie di uscita del paese in modo da capire quali sono i veicoli che possono entrare ed uscire e quindi avere un maggior controllo del territorio. Per chi dovrebbero votare la sua lista? Perché è una lista che rompe gli schemi, è una lista che in realtà nasce con un concetto non di mettere insieme delle persone come se fossero un carnaio di voti, ma nasce con un concetto di mettere insieme delle competenze. Pochi secondi per un messaggio ai suoi concittadini e chiudiamo qui poi il nostro breve incontro di oggi. Chiedo, conoscete la nostra lista, conoscete le persone della nostra lista e l'impegno che potremo mettere verso di voi e verso il paese. Vi chiedo semplicemente di votare con la testa e di votare la lista numero due. Bene, il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno termina qui, grazie al nostro ospite. Alla prossima. Sigla! Alla prossima. Alla prossima.